Arresti, contusi, un'aggressione fisica al commissario Marco Olletto e cariche della polizia nel giorno della ripresa delle demolizioni degli immobili abusivi a Licata. Le ruspe e gli operai dell'impresa Patriarca Salvatore di Comiso hanno operato in Contrada Gallo d'Oro, zona balneare sul versante di Levante del litorale Licatese. In questa zona, secondo l'elenco diramato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, figura una villetta sul mare a due piani per un'area totale di circa 350 metri quadri. Fin dalle prime ore della mattinata, schermati da un nutrito cordone di polizia, i funzionari del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune e gli operai della ditta hanno espletato gli adempimenti relativi all'immissione in possesso del bene e allo sgombero di quando era ancora all'interno dell'immobile. Gli animi sono diventati incantescenti nel pomeriggio, quando è andato crescendo sensibilmente il numero di chi protestava e delle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Intorno alle ore 15 si è registrata una carica della polizia. A causarla le resistenze di chi fin dal mattino tentava di opporsi alle demolizioni. In particolare il clima si è fatto bollente quando il mezzo della Patriarca chiedeva strada per uscire da Gallo d'Oro dopo aver completato lo sgombero della costruzione da abbattere. In questa circostanza una ventina di persone si sarebbe seduto al centro della strada per impedirne il transito. Quattro in questa prima fase i fermi operate dalle forze dell'ordine per resistenza pubblico ufficiale. Poco dopo il quinto arresto ai danni di un giovane reo di aver colpito alla tempia il dirigente del commissariato di polizia Marco Alletto. Quattro le persone rimaste contuse nei momenti più concitati. Due uomini tra cui il proprietario dell'immobile da abbattere sono rimasti a lungo distesi a terra in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118 che li ha trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. Ferita alla testa anche una donna trasportata anche lei in ospedale per accertamenti. Sotto shock invece una bambina che ha assistito alle fasi più calde dello scontro. L'opera demolitrice è iniziata intorno alle 16.30 quando la ruspa si è mossa dal terreno dove era stata parcheggiata per iniziare l'abbattimento della costruzione. Demolizione che proseguirà anche oggi e a giudicare dalle dimensioni della villetta è verosimile che ci vorrà un po' di tempo prima di completare l'intervento. Nel pomeriggio di ieri sono poi arrivati i verdetti da parte del tribunale di Agrigento nei confronti degli incidenti d'esecuzione presentati dal legale di due ex proprietari di altrettanti immobili abusivi incontrata dall'avanche Monserrato. In entrambi i casi i giudici hanno rigettato le istanze. Sull'aggressione subita dal dirigente del commissariato di polizia la procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta.